Puri, grandissimo mal di gola, ci siamo, però siamo carichi, corti, ma vediamo di migliorarci. No, sono molto emozionato, stranamente, cosa che di solito non è così. Ho stravolto tutto, ho messo un vestito diverso, mi sono alzato presto, sono andato a mangiare. Tutto l'obiettivo, considerando che sono corto e non ho nulla da perdere, speriamo che questa emozione sia una sensazione positiva. Però, a parte gli scherzi, anche se dovessi uscire per primo, ho fatto un altro grande risultato, sono contento. Soprattutto, lo dicevo prima, grazie a voi che avete fatto sempre questi sacrifici in mezzo a questo casino tutto stretto, non riuscite a passare. So che è stato un lavoro difficile, siete sempre presenti. E io personalmente sono di quelli che, grazie a voi, riesco sempre a fare meglio perché so che vi ho sempre dietro. E non è poco, è perché comunque siete amici e ci volete bene. Grazie, grazie a tutti. Buongiorno. Hai notato cosa ti ho detto ieri? Hai notato, eh? Che ti ho detto che ho giocato meglio o meno fish? Speriamo che oggi sia il giusto mix per andare un pochino su, per potresti giocare finalmente l'EPT e non uscire con Asso 10 un'altra volta, per la terza volta. Sicuramente lo folderò in qualsiasi circostanza, oggi. Va bene. Un saluto a tutti. Ciao. Ho capitato un tavolo di collacchi. Filaevi. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti.